In Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate sono state installate le giostrine che potranno essere utilizzate anche da bambini diversamente abili. Play for All è il nome del progetto in cui le giostre non rappresenteranno più motivo di discriminazione ed esclusione, bensì motivo di inclusione. Si parla tanto di inclusione, ma cosa si intende realmente con tale espressione? La presenza nelle aree verdi di giostrine descritte da etichette per disabili non risponde al bisogno di integrazione e interazione del bambino diversamente abile, in quanto lo si costringe in una zona esclusivamente dedicata a lui. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite afferma che lo sviluppo di una città sostenibile passa necessariamente attraverso una maggiore partecipazione alla vita di comunità di tutte le categorie di persone che la abitano. In questo senso, la corretta valorizzazione delle aree verdi pubbliche è un tassello fondamentale per assicurare l'inclusione sociale e la conseguente crescita del benessere della società tutta. Ciò significa garantire la presenza di un ambiente accessibile a tutti, in cui tutti hanno la possibilità di divertirsi e crescere insieme. Castellabate è tra i comuni cilentani ad aver concretizzato tale iniziativa. Pensare e progettare in modo inclusivo è il primo passo fondamentale per una società civile sempre più proiettata e sensibile all'abbattimento di ogni barriera che possa in qualche modo escludere le persone disabili, dichiara il sindaco Marco Rizzo. Il gioco è il sorriso di ogni bambino, scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore alle politiche sociali Marianna Carbutti. Sono assai compiaciuta del lavoro che questa amministrazione sta svolgendo nei confronti del sociale per poter apportare soluzioni concrete alle piccole problematiche quotidiane. Sono sicura che questo parco renderà felici molti bambini che finalmente potranno divertirsi fruendo di queste giostrine, afferma l'assessore. Con piccole attenzioni, cerchiamo di regalare un sorriso a tutti i bambini. Ieri abbiamo installato nuove giostrine nel parco di Villa Matarazzo, fruibili a tutti. Un grazie particolare all'Ufficio Politiche Sociali e alla responsabile Maria Rosaria Guariglia, che ha seguito passo passo la realizzazione del nuovo parco, afferma il consigliere Clemente Migliorino.